Giornata bestiale per gli abruzzesi del volley nel campionato caretto. Dopo la sconfitta a Siena nell'anticipo di sabato dell'Abba Pineto, anche l'impavide è costretta alla resa casalinga dal Grotta Zolina. Partita bella e generosa quella degli ortonesi. Il 3-1 finale è bugiardo. Le percentuali di attacco, ricezione e battuta leggendo il tabellino del match sono analoghe. Agli ortonesi è mancato il colpo di reni in alcune fasi della partita. Lo confermano anche i parziali dei set. La contabilità dice 21-25, 23-25, 25-22, 24-26. È stata una partita in cui forse per certi versi abbiamo meritato più di loro. Però purtroppo qualche situazione, qualche pallone, soprattutto nei finali di set, non ha giocato a nostro favore. In campo femminile ancora male la Sirdeco Volley, le ragazze pescaresi rimediano in casa la quarta sconfitta dopo quattro gare. Ad opera della Tecno Team alvese Como Volley. Il 3-0 subito, con parziali a 21, 13 e 17, non concede attenuanti. Un passo indietro rispetto all'ultima gara casalinga contro Brescia. Lo ammette anche coach Pino Bosica. È stata la nostra peggior gara e quindi dovremmo sicuramente sistemare molte cose, soprattutto sotto l'aspetto caratteriale.